Poi abbiamo periclini di Castelnuovo, parrocchia Santa Maria della Petrara, poi abbiamo ancora Plumeri, Santa Maria Assunta, Redigo, Santa Maria Assunta, accompagnati dal parro Don Claudio. Poi abbiamo Vallata, San Bartolomeo Apostolo, Corno Don Gerardo, poi abbiamo Castel Baronia, con le parrocchie Santa Maria delle Fratte, Sante... Eublio Martire, con Don Antonio, Poi Baglietta, Maria Santissima del Carmine, Rocca San Felice, la Rocchia Santa Maria Maggiore, con Don Dino. E poi saluto anche tutti gli altri quelli che privatamente oggi hanno dovuto raggiungere il Santo Arbide e ricordo di questo momento così bello di celebrazione in onore anche di Saci. Grazie.